Ultimora Milan, arrivano clamorose notizie sul rinnovo di Rafa Leao, avete sentito? Periodo tutt'altro che positivo in casa Milan, i rossoneri sono quinti in Serie A, attualmente fuori dalla zona Champions e hanno perso 0-2 la semifinale di andata contro l'Inter Le attenzioni dei tifosi del Milan sono però rivolte al Leao, sia per l'infortunio sia per il rinnovo di contratto Il portoghese ha saltato l'Euroderby d'andata a causa dell'elungazione rimediata contro la Lazio e verrà monitorato giorno dopo giorno con la speranza di riaverlo a disposizione per martedì, nel ritorno contro l'Inter La vicenda legata al rinnovo ha subito in questi mesi diversi cambi di direzione Ora è però arrivata la decisione sul suo futuro In base a quanto riportato da Fabrizio Romano, Rafa Leao ha firmato il suo nuovo contratto con il Milan Il numero 17, che sarebbe andato in scadenza nel 2024, si è legato ai rossoneri fino al 2028 Guadagnerà 5 milioni di euro più bonus, stipendio alzato di 3,6 milioni di euro Inoltre è stata alzata la sua clausola rescissoria, da 150 a 175 milioni In attesa di capire se Leao ci sarà contro l'Inter, i tifosi rossoneri possono gioire Il rinnovo di Leao è finalmente arrivato e presto ci sarà l'ufficialità Secondo voi, meritava di più?